Ma dove fai? Ma che stai facendo? Vai 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 Buongiorno team trovate Benvenuti nella mia vita Anche oggi abbiamo veduto un nuovo video di giorno per raccontarvi le nostre folli giornate E oggi come potete vedere siamo in macchina e siamo tornati a Palermo Siamo stati ieri a Milano per risolvere un enigma del signoresse Abbiamo parlato con Gigi e poi abbiamo trovato una lettera che ci ha detto di tornare a Palermo Quindi eccoci di nuovo oggi qui a Palermo Signoresse così non va bene non si può fare Su giù su giù aeri ma cos'è? Ma comunque inizia oggi una giornata piena di impegni Piene di cose da fare Perché oltre a risolvere i problemi con signoresse Come potete vedere dietro ho la macchina piena di scatole Con delle cose da portare al laboratorio Oggi per me è anche un grande giorno Perché ho l'esame per la patente Per prendere la patente Sì la patente della moto avete capito bene Quindi speriamo oggi vada tutto per il verso giusto E io oggi finalmente potrò avere la mia patente Per guidare crossi Il mio amato cross Ma comunque adesso stiamo andando a casa di Sofì Per vedere quella cacciofì che sta combinando E quindi in teletrasporto a casa sua Wow Diamo il benvenuto a Sofì Ciao cacciofina calmati È arrivata qualche lettera del signoresse Aspettavo te per cercarla Ma come ancora non è arrivato niente Non l'hai trovata Luì io ho paura a cercarla Perché se la trovassi dovrei leggere da sola Quello che c'è scritto E io mi spavento un sacco Che signoresse aiuto Devo essere con te per forza Io credevo l'avesse lasciata qui da qualche parte Così appena tu tornavi a casa tua La trovavi subito Quindi niente lettera del signoresse Al momento no Capisco Ma comunque io devo andare alla scuola guida Per prendermi la patente Vuoi venire con me? Come no? No Perché prenderei un sacco di tempo Io non voglio stare un sacco di tempo lì A guardarti a perdere tempo con te Non vuoi vedere mentre cado? Non cadrai Sei bravissimo a portare il motore Va bene cattino Allora io ti saluto e vado Vai Ciao Luì ti aspetto Va bene Ciao Seconda prova signoresse ricorda Ciao Ok ci siamo Questo motore è un piccolo ferro vecchio Non so che succederà Speriamo di superare questa prova Non so neanche se posso fare il video Mentre faccio l'esame Esame è andato Se l'abbiamo fatta Bravo lui complimenti Bravo lui complimenti Ci sono anch'io Ma tu dove arrivi? Mi ero nascosta stavo giocando a nascondino È stato davvero super divertente guidare quel cattorcio ferro vecchio Povero crossi Io avrei fatto l'esame con crossi Ma non perdiamoci in chiacchiere È il momento di andare adesso al laboratorio Perché dobbiamo portare tutti questi pacchi 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 Basta Ed eccoci al laboratorio Vai schiavetto Vai schiavetto avvicinati Non vedo niente Non me ne importa un picco secco Adoro questo laboratorio lo sapete Lo ripeto sempre E adesso lo avveliremo con tutti i quadri Quadri Lui? C'è una lettera del signore S Lui l'aveva messa qui Signore 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 Lui sei vivo Si Ecco Lui basta Leggi questo video Vediamo assolutamente Leggero questa lettera Potrebbe cambiare tutto Potrebbero esserci Delle notizie Di chiederai Dai che sono curioso Svediamo da Milano Per leggere questa lettera Mi mancano un sacco I nostri piccoli cucciolini Si 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 Ma adesso leggi Carissimi Sofia e lui, bentornati in Sicily Sicily, io l'odio, io l'odio Parli in inglese, capito, fa il figo Se Chi era il re, vorrete rincontrare Ai miei comandi dovrete sottostare Prova 2 Sentiamo cos'è adesso questo pazzo Visto che siete la coppia più bella del web La più pazza, pucci pucci, lalalalalala Questa sarà una prova di fiducia L'uno prenderà l'altro che si lancia lì indietro Dai che forse questa è la volta buona che vi lasciate Ma ha, 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 ha Firmato signoresse Signoresse, io e lui non ci lasceremo mai Noi siamo me contro te, la coppia più bella Più pazza di sempre del web Mundiale e mondiale, tutti ci possono copiare Ma noi rimarremo sempre più belli del mondo Yeah, yeah, ni, 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 ni E né tanto meno tu riuscirai A dividere il nostro rapporto So che hai perfettamente ragione, non ci separeremo mai Io mi fido di te, solo che Non so se tu riuscirai a prendermi Al volo Io sono pesata, tu sei piccolina Non lo voglio fare questa prova Ma sei impazzito o cosa? Noi per tirare il re dobbiamo fare tutto Lui pur di averli Io veramente farei di tutto Piccolini cuccioletti Chissà dove saranno in questo momento Pensare che tu non vuoi fare questa prova Mi fa venire voglia di picchiarti No, 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 no No, 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 no Io faccio il tuo Piano piano, piano, piano Calma, calma, calma Calma, sì, 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 lo faccio La faccio Faccio la seconda Ti direi Va bene, va bene, va bene, va bene Va bene principessa Va bene principessa Ah, quindi ricordo che io 14 maggio faccio il compleanno E quindi? Hai già pensato cosa regalarmi? No Come no? Non lo so, aiuto Ti potrei regalare un altro mestolo per picchiarmi No, già ho completato la collezione Comincia a farmi paura ragazzi Va bene, lui però adesso basta Dobbiamo metterci all'opera e salvare Kira e Ray Sì, ok Ma quelli che facciamo? Quelli ci sarà tempo domani, dopo domani per sistemarli Per ora abbiamo da fare le cose più importanti Lo capisci, sì o no? Basta, basta Ok Diamo inizio allora alle danze Alla festa Alla prova Prima di iniziare con la prova 2 Vi volevo dire che io e lui finalmente abbiamo aperto i nostri profili personali su Instagram Sì Correte a seguirci anche lì perché oltre adesso a me contro te trovate il profilo di Sofì.scania e Luigi.calagna Già ci state seguendo in tantissimi e vi ringraziamo un sacco Tin Ok È tempo di sfida Non so se avete capito bene ma il signore S ci richiede di fare la sfida delle sfide Ovvero Uno si lancia all'indietro e l'altro deve prenderlo È una vera e propria sfida di fiducia e io mi spavento un sacco Inizia la Sofì perché ovviamente essendo un gattino più piccolo, più leggero, dovrebbe essere più sicura da fare No 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 io ti ho impedimenti paura lui mi spaventa tantissimo Dai andrà tranquilla 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 No davvero Apri le braccia E se non mi prendi Apri le braccia e lasciati cadere Lui se non mi prendi mi sbatto la testa per te la coppiscisione Tranquilla che ti prendo porno Giura Come? Giura Ok piedi uniti Piedi uniti? No no piedi larghi No piedi uniti Nooo Si Dai piedi uniti Braccia larghi Ok vai gattino No Si Dammi una fiducia Non ho fiducia in te Ma come non hai fiducia a me? No no Vince il signore S è così No signore S è così No signore S è dove vincere Mi ha dovuto Ma dov'è impazzita Non mi hai detto niente Però ho messo il piede di sicura Guarda senza piede di sicura Ok Vai rigida Rigida Vai Ragazzi non potete capire Sono stata terribilmente in ansia Vai ritroviamo il genio che aveva oggi è bellissimo Lui? Allora davvero io Fu io Tu Di nuovo io Si No ma dai signore si ha detto una volta Ma pensa che possa bastare Dai Io lo facciamo il più sicuro che libererai Chirerei Quindi vai Signore S è riusciremo ad acchiapparti Davvero Ok Andra Lui non mi stai riprendendo Non mi vuole riprendere Non mi vuole riprendere Mi stai facendo cadere per terra Posso ripartito No 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 Non mi vuole riprendere Ammettilo Ammettilo Lui Ammettilo Certo che ti volevo prendere Stai tranquillita Stai calma Stai tranquillita Qui ha tu la vigna Signoresse Queste me la paghi Davide tocca a te Ok Andravo usare questi Ok Sopi per favore Io sono pesante Quindi mi raccomando Rimani bella compatta Pronta a prendermi ok Sì, certo, puoi fidarti di me Come faccio a fidarmi di te? Vai, ti prenderò sicuramente Sei pronto, Lui? No Dai, Lui, sei pronto? Sì Ok Dai, sei pronto? Vado Lanciati Vado Ma che fai qua, Lui? Dai, dentro di me per prendermi Ma è pazzita Ma dove fa? Ma che stai facendo? Vai, 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 vai Forza, in modo Stavolta ti prendo Il cuore Apri le braccia Calma, un po' di yoga Ma che yoga? Vai, ma vai tu di fare yoga Dai, prendimi, ti prego Vai, tre, due Uno No, no, non so che non mi chiederò mai Ma perché che là sono più vicina? Sono pronta Ti ho salvato Lui, ti ho salvato Siamo la coppia più pazza del web Signoressa confermi Il mio cuore Bene, ti trovo Direi che l'avventura di oggi si può concludere qua Perché è stato davvero Devastante Il mio cuore non potrebbe sopportare altre avventure per oggi Io direi che anche questa prova è stata superata Come sempre io e lui non ci smettiamo Signoressa, signoressa, signormo Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi Prendetevi a questa incredibile famiglia Lo ci vedo domani con il prossimo video Dovete prendere il nostro video A me è controda.it Slash ove Ciao Che fai gatto Ciao Ciao